Chioggia è una città incredula e addolorata. Tanti messaggi di cordoglio ai familiari di Alfredo ed Elisa Bergamasco, padre e figlia, 60 e 33 anni, gestori della pizzeria Al Mago in fondamenta Lombardo. Vengono ricordati come due persone cortesi, due commercianti attenti e premurosi. Nel tempo avevano trasformato la loro gelateria in una pizzeria bar. Non era mai cambiata invece la loro gentilezza verso i clienti. Alfredo ed Elisa hanno perso la vita insieme lunedì verso le 18 e 30 in sella uno scooter finito contro un palo della segnaletica sulla provinciale 7 Rebosola a Correzzola in direzione Chioggia, diretti verso il loro lavoro. Il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter. Il colpo violento ha fatto disarcionare dal mezzo padre e figlia che sono stati sbalzati violentemente contro dei cartelloni. Per Elisa Bergamasco non c'è stato nulla da fare. Il padre Alfredo invece è spirato in serata dopo essere stato elitrasportato in ospedale a Padova. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dello scooter. Padre e figlia tra poche settimane avrebbero aperto un altro locale a Civè di Correzzola. Elisa da qualche tempo viveva a Cona con il marito e una figlia piccola, mentre Alfredo viveva a Chioggia. In pochi giorni si tratta del terzo incidente mortale lungo le strade del Padovano che coinvolge dei motociclisti.